Il fango dello scandalo petrolio di potenza che sta facendo tremare i palazzi della politica italiana ha un appendice anche a Gioia Tauro e precisamente alla IAM. Il comitato del quartiere Fiume, che in passato era stato più volte protagonista di proteste contro i miasmi prodotti dall'impianto di depurazione di Contrada Lamia, chiede l'azzeramento del Consiglio di Amministrazione della IAM, la società finita nell'inchiesta della Procura di Potenza sull'illecito smaltimento di rifiuti provenienti dalla Valle d'Agro e smistati illecitamente anche in Calabria, di cui ben 27.551,37 tonnellate, tante ne ha quantificate la Procura potentina presso l'impianto gioiese di depurazione della IAM. In questa inchiesta sono indagati il presidente della IAM Giuseppe Fragomeni e il responsabile tecnico Rosa Maria Bertucci. In pratica la IAM avrebbe smaltito nell'impianto rifiuti pericolosi e nocivi per la salute nonostante fosse autorizzata a smaltire solo rifiuti liquidi speciali di non pericolosi. Proprio le proteste dei componenti del comitato erano finiti al centro di intercettazioni telefoniche tra alcuni indagati. Alla luce di quanto emerge i cittadini si dicono ulteriormente preoccupati per l'impianto ambientale che potrebbe essere stato oggetto dello smaltimento di questi rifiuti pericolosi. Restiamo maggiormente preoccupati considerando che, si legge nella nota, dei cittadini del comitato la IAM ha sempre sostenuto e rassicurato alla popolazione gioiese che il materiale che veniva stoccato e trattato fosse a norma e non inquinante, come risultava dei documenti di viaggio dei bottini e che per conto della stessa IAM procedeva ad analizzare a superere ciò che veniva analizzato, corrispondeva a ciò che era riportato sui documenti di trasporto. La magistratura locale, nonostante i controlli e i prelievi che dimostrano la presenza di cadmio superiore alla norma, abbia dapprima sequestrato e poco dopo dissequestrato la famigerata quarta linea del depuratore sulla base di una semplice intensificazione dei controlli a posteriore. Pertanto ad oggi, dicono ancora quelli del comitato, le nostre richieste rimangono immutate, semmai rinforzate, da quanto sta emergendo. Pertanto, pretendiamo, dicono i cittadini, ormai dal 1997 chiarezza e a oggi tale chiarezza è dimostrabile solo interloquendo con una nuova amministrazione della società IAM. Continuiamo a chiedere quindi le dimissioni dell'amministratore delegato della società Domenico Mallamagi e l'azzeramento contestuale di tutto il consiglio di amministrazione della società. Stessa sorte i cittadini chiedono per il laboratorio di analisi della IAM che mai si è accorto pur analizzando le sostanze di questo scambio di codici di materiali pericolosi. Continuiamo a pretendere che l'impianto funzioni esclusivamente per il trattamento delle acque reflue provenienti dai comuni della Piana e che venga definitivamente chiusa la quarta linea impedendo così l'arrivo dei famigerati bottini.